benvenuti in questa nuova puntata di dipen io sono zap siamo oggi su dipen scienza per un inizio frizzante di una nuova mini serie che a breve vi racconterò siamo in live anche su twitch come al solito in un nuovo stage quindi venite assolutamente su twitch a vedere come abbiamo organizzato tutto siamo dalla nuova casa ufficialmente prima puntata della nuova casa quindi speriamo che questo porti bene chiedo gentilmente a la chat di twitch se qualcuno riesce a condividere ciao callen il link di spreaker su i nostri canali e come al solito facciamo una call to action velocissima oggi perché ho un milione di cose da dirvi come al solito se avete amazon prime vi ricordo che potete venire a iscrivervi anzi abbonarvi gratuitamente al nostro canale twitch in questo modo ci sostenete anche economicamente anche se per voi l'abbonamento è gratis quindi assolutamente da fare tra l'altro in questi giorni ho registrato una piccola guida per fare tutta la procedura per iscrivervi al nostro canale twitch che poi devo montare e pubblicare nei prossimi giorni se ancora non l'avete fatto però vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale patreon che vi avrà accesso al gruppo di pen vip che assolutamente non vi dovete perdere è un po monotematico ultimamente si parla spesso di robe un po hot quindi assolutamente da non perdere e soprattutto per i maschietti che seguono di pen crimini sappiate che è pieno di gnocca il gruppo di pen vip io ve lo dico spero che sia un complimento che lo prendiate come un complimento però devo dire che tutte le nostre iscritte di vip meritano quindi venite assolutamente iscrivervi a di pen vip store velocissimo anche qui da questa sera tutti quelli che condivideranno questa puntata sui social taggandoci riceveranno un fantastico buono un coupon sconto per il nostro store quindi assolutamente questa è la vostra occasione di acquistare la tanto agoniata maglietta di di pen che non avete avuto ancora il coraggio di comprare quindi avrete un fantastico sconto su tazze e robe del genere tutto tutto quello che c'è sullo store quindi venite assolutamente a condividere la puntata sui vostri social e taggateci oggi iniziamo una puntata anzi iniziamo una piccola serie dedicata alle emergenze ciao bebbo era un po che non ti vedevo in live bentornato una appunto miniserie dedicata alle emergenze oggi parliamo dell'arresto cardiaco e come dicevo prima in chat in su twitch questa miniserie non andrà avanti in eterno andrà avanti solamente se ci sarà una risposta da parte vostra quindi se ci saranno condivisioni se ci saranno degli ascolti decenti io farò mi sono impegnato nel fare questa puntata e la prossima puntata a proposito dei soffocamenti perché secondo me è importante che voi lo sappiate a prescindere da dal successo o meno della puntata e della serie dopo vi spiego anche il perché ma se non vi ne frega niente cambieremo argomento in sostanza dopo anzi vi dico subito quali sono le mie idee per le future puntate così magari vi viene un po il pepe per condividere la puntata e ascoltarla e spargere la voce magari lasciare anche una bella recensione volevo parlare anche delle ustioni quindi cosa fare se mi stiono in casa quindi visto che anche nella scorsa puntata abbiamo parlato degli incidenti casalinghi forse è bene sapere cosa fare e cosa non fare quindi parleremo di ustioni di soffocamento negli adulti e nei bambini quindi molto importante anche perché so che molti di voi hanno bambini quindi è sempre bene sapere anche perché dopo voglio fare un piccolo brontolio e vi dico il perché parleremo di intossicazioni sia da gas o fumi ma anche di acidi detersivi roba del genere incidenti urti traumi quindi cosa fare cosa non fare e sanguinamenti quindi tutte le diciamo quelle cose che possono succedere in casa ma anche al di fuori che è bene che diciamo sappiate cosa fare dicevo volevo fare un piccolo brontolio perché perché mi sembra tanto che per esempio le nuove mamme no le neomamme appena scoprono di anzi le neogestanti appena scoprono di essere incinta iniziano a comprare tutti i libri del mondo su non mangiare cosa mangiare cosa non mangiare e l'insalatina deve essere lavata col bicarbonato con questo e con quello i padri fanno lo stesso più o meno quelli più attenti quelli meno attenti se ne sbattono le palle chiaramente però mi sembra che nessuno si preoccupi di sapere quali sono le tecniche per esempio per evitare un soffocamento di un bambino e dato che banalmente i bambini sono soggetti al soffocamento dato che si mettono in bocca qualsiasi cosa specialmente in alcuni periodi della vita secondo me questa è una cosa fondamentale cioè un corso di bls e di tecniche di primo soccorso dovrebbe a mio parere essere obbligatorio non solo per esempio nelle scuole ma a quelli che devono diventare genitori per quelli che devono diventare genitori non capisco perché questo non venga fatto in italia quindi oggi rimediamo con dipenscienza top sofia utile per te che sono perfetto niente quindi questo era un po il mio pippone allora cominciamo cominciamo facendo un grosso disclaimer qui siamo su dipenscienza facciamo in parte intrattenimento in parte divulgazione però non prendete questa puntata come un corso di bls perché non lo è come sapete io non sono ancora laureato quindi non ho la carta che dice che posso istruirvi in quanto a tecniche di sopra di non sopravvivenza di primo soccorso sappiate che ci sono dei corsi molte volte gratuiti molto spesso organizzati dal dal 118 per imparare a fare queste tecniche anche perché va bene la teoria però è fondamentale poi andare a eseguire queste tecniche dopo vi spiego perché sostanzialmente perché la pratica rende più bravi e esatto bebbo perché io non capisco perché non li aggiungo nei corsi preparto o banalmente adesso faccio una una critica a tutto il mondo ecclesiastico però facciamo il corso prematrimoniale in chiesa e nessuno pensa fare un corso di come evitare che tuo figlio si soffochi e poi purtroppo i fatti di cronaca ci parlano anche di bambini che muoiono per colpa di un chicco d'uva piuttosto che di un pomodorino io veramente non capisco comunque bravo matilde esatto a scuola lo fanno ogni tanto ma non sempre non capisco perché mentre all'estero per esempio in asia lo fanno sempre e ci sono stati casi di bambini che sono stati in grado di salvare degli adulti con queste tecniche comunque a parte queste menate oggi parliamo del bls quindi delle tecniche diciamo di sopravvivenza di base di mantenimento della vita finché non arrivano i soccorsi dopo spiegheremo che cos'è il pronto soccorso e che cos'è invece il il soccorso di base quindi il primo soccorso e mi è venuta in mente questa serie dato che a palla è successo pochi giorni fa forse un paio di settimane fa ormai che un giocatore di padel si sentisse male proprio mentre loro erano lì mentre stavano giocando a padel e quindi hanno dovuto attivarsi e in sostanza improvvisare e fare qualcosa per riuscire a salvarlo fortunatamente questa persona si è salvata però ho pensato dai racconti di palla che chiaramente era del tutto impreparato sul cosa fare non che questa sia una cosa negativa però è una cosa da palissiana quanto sarebbe stato meglio anche se poi il soggetto si è salvato se ci fosse stato qualcuno lì preparato all'interno della struttura e e quindi ho pensato che questa serie potesse essere utile a qualcuno quindi iniziamo stiamo camminando per strada o siamo che ne so in in casa banalmente con un nostro parente troviamo il nostro parente per terra o il passante per terra che cosa dobbiamo fare allora innanzitutto partiamo da una cosa in parte etica in parte legale ovvero domanda siamo costretti a soccorrerlo cioè c'è un obbligo effettivo anche legale di soccorrerlo effettivamente sì quindi sia che voi siate esperti in vls e che abbiate eseguito il corso sia che non l'abbiate fatto è vostro dovere soccorrere quella persona perché altrimenti andremo incontro all'omissione di soccorso che è valida per tutti come sulla strada quando facciamo un incidente è valida anche se siamo a piedi e vediamo una persona che sta male quindi dato che siamo costretti ad agire forse è meglio sapere che cosa fare bisogna agire innanzitutto tramite appunto il bls che il supporto vitale di base bls è un acronimo inglese e bisogna capire che cos'è il bls cioè qual è l'obiettivo del bls perché in sostanza quello che dobbiamo fare è mantenere in vita la persona in particolare il cervello della persona che come abbiamo detto in altre puntate è un cervello un tessuto che molto facilmente si deteriora e molto difficilmente si rigenera e bastano 4-5 minuti di ipossia quindi di carenze nella respirazione e nel caso appunto di un arresto cardiocircolatorio e respiratorio appunto questi 5 minuti passeranno molto in fretta ve lo assicuro e quindi bisogna riuscire ad agire entro questi 5 minuti per mantenere il soggetto in vita o quantomeno sì per mantenere in vita e per non lasciare dei danni a lungo termine appunto al soggetto in secondo diciamo in seconda battuta quello che facciamo tramite il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca è permettere ai soccorsi di raggiungere il posto chiaramente loro arriveranno con l'ambulanza nel più breve tempo possibile ma non è detto che questo tempo sia inferiore ai 5 minuti e quindi è fondamentale che ci sia un impegno da parte nostra per far sì che questi 5 minuti vengano prolungati il più possibile e quantomeno fino a quando arrivano i soccorsi una cosa fondamentale che dobbiamo capire però del bls è che le tecniche di massaggio cardiaco e di respirazione bocca a bocca non hanno l'obiettivo di cambiare lo stato del soggetto perché vi dico questo perché è molto molto spesso si potrebbe pensare facendo trovandosi in una situazione reale ci renderemo conto che magari questi 5 minuti a voglia che passano cioè noi iniziamo a fare il massaggio cardiaco e magari l'ambulanza arriva dopo 10 15 minuti quindi in questi 10 15 minuti potremmo noi pensare di non stare agendo in modo corretto perché le tecniche di bls appunto non hanno l'obiettivo di modificare lo stato del soggetto che in quel momento è a terra non cosciente non respira potremmo pensare che il soggetto ormai sia deceduto anche qui c'è una questione diciamo legale abbastanza importante che è quella di non dare per scontato nulla e soprattutto di continuare a fare il massaggio cardiaco fino a quando non arriva nei soccorsi perché non sta a noi decretare il decesso del soggetto e soprattutto quasi mai in queste situazioni il soggetto cambia il suo stato cioè quasi mai si riprende e magari si rialza e se ne va a casa non succede mai questo succede se mai in pronto soccorso quando poi vengano utilizzate delle tecniche diciamo anche tramite i macchinari e i farmaci che sono in possesso dei medici del pronto soccorso questo avviene appunto dopo non succederà quasi mai che il paziente si rialzerà durante il nostro massaggio cardiaco quindi non ci dobbiamo demoralizzare e non dobbiamo dare per scontato che il paziente sia ormai deceduto beh un secondo proseguiamo se avete delle domande e robe da scrivere scrivete pure in chat che intanto leggo esatto sofia bisogna continuare anche se non dà nessun segno di miglioramento e questo è fondamentale non solo è fondamentale per la sopravvivenza del paziente ma è fondamentale per voi che se no incorrete in cazzi legali perché voi non siete dei medici non potete dichiarare un soggetto morto quindi è vostro dovere che voi conosciate o meno queste tecniche e che voi abbiate seguito o meno un corso proseguire fino a che non arrivano i soccorsi anzi ci sono dei viene definito che bisogna proseguire o fin quando arrivano i soccorsi o allo sfinimento del soccorritore si parla di sfinimento del soccorritore perché le tecniche di bls sono veramente stancanti dopo vi spiegherò come si fa ma vi assicuro che quando l'ho fatto quando ho fatto io il corso in università anche col manichino che comunque non è una condizione stressante non è una condizione in cui diciamo sei sotto pressione però proprio come attività fisica è proprio stancante e lo sfinimento vi assicuro si raggiungerà in breve tempo e quindi vedremo dopo che sarà anche importante riuscire a attrarre l'attenzione di altre persone per poter avere il cambio e quindi proseguire fino all'arrivo dei soccorritori quindi si bisogna continuare oltranza e fino allo sfinimento ok quindi arriviamo al punto il sapere cosa fare il sapere cosa fare è fondamentale per diversi motivi primo per non farsi prendere dal panico e il panico vi assicuro è il vostro peggior nemico in una situazione del genere specialmente se lì per terra c'è un vostro parente quindi se avete anche una carica emozionale rispetto a quello che sta succedendo sarà veramente il peggior consigliere che avrete la vostra ansia e poi è fondamentale perché per quello che vi dicevo prima essendo le tecniche di bls molto stancanti dal punto di vista fisico se voi sapete cosa fare non solo agite bene da subito ma anche sarete in grado una volta che sarete sfiniti di istruire un'altra persona magari che sta passando dall'altra parte della strada a fare le cose giuste e questo è veramente fondamentale sapere cosa fare quindi vi dicevo è fondamentale per gestire l'ansia gestire l'ansia non è facile e vi racconto un aneddoto poi proseguiamo la puntata normale quest'estate ero al mare con mia madre e la mia ragazza eravamo nella nostra casa al mare in un posto sperduto in mezzo alla calabria quindi posto sperduto in mezzo alla calabria mia madre si soffoca non respira più assolutamente in quel momento ho visto la mia ragazza sbiancare mia madre che ansimava e avevo sì l'ansia avevo molta ansia però al contempo ero non so confident non so come spiegarvi avere il controllo della situazione vuol dire che per quanto puoi essere in ansia per quanto può essere disastrosa la situazione tu però hai bene in mente che cosa fare quindi dal momento in cui mi sono reso conto che la situazione non era uno scherzo che non gli era andata di traverso la saliva ma che non stava respirando in quel momento mi sono alzato e con tutta l'ansia con tutta l'adrenalina con tutto quanto ma la testa era lucida nel senso che forse lo dico con un po anche di superbia mi sentite ancora perché non vedo più niente cosa è successo mi è morto il telefono benissimo cosa sta succedendo arrivo ragazzi poi ok mi era morto il telefono mi vedete ancora ok adesso dovreste vedermi di nuovo non si vede ma si sente va beh nel caso io proseguo per spreaker purtroppo finché abbiamo questi questi mezzi scarsi dobbiamo adattarci quindi twitch va un po così comunque vi stavo dicendo che in quella situazione è vero che avevo l'ansia è vero che effettivamente poi alla fine perché poi si è risolta bene tremavamo tutti come foglie però comunque sapere cosa fare ti dà gli step di dire ok e vi dicevo forse con superbia io in quel momento ero sicuro che avrei portato all'ospedale mia madre viva perché sapevo che cosa fare perché ho pensato ok adesso faccio la manovra ok se non funziona e sviene faccio questo 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 massaggio cardiaco respirazione nel frattempo faccio chiamare la mia ragazza cioè avevo tutto sotto controllo anche in un momento totalmente di panico perché ti vedi tua madre davanti che sta morendo sostanzialmente e quindi è fondamentale per gestire l'ansia sapere che cosa fare e quindi anche per questo che ho deciso di fare questa puntata quindi andiamo per step altra regola fondamentale è agire subito agire senza il panico vi ho spiegato il perché e un'altra cosa fondamentale è diventare il leader della situazione questo non è una questione di egoismo egocentrismo ma è fondamentale perché tutto vada nel verso giusto vi faccio un esempio siete per strada trovate una persona per terra è importante che se non c'è nessuno allora a quel punto il leader dovete essere voi ma dovete prendere in mano la situazione dovete gestire i passanti dovete urlare a quello che arriva dall'altra parte della strada dire tu vieni qui prende il telefono chiama il 112 mentre voi fate il resto che adesso vi spiegherò se c'è un altro leader allora ancora meglio perché se c'è un'altra persona che sa che cosa fare che si vede che ha seguito un corso si vede che sta gestendo bene la situazione allora diventerete il gregario come vi dicevo la presenza di un'altra persona è fondamentale per la buona riuscita di tutto l'ambaradan quindi a quel punto se una persona fa il massaggio cardiaco l'altro magari intanto sta chiamando già perché sa già cosa fare sta già chiamando il 112 magari si mette in posizione per fare la respirazione è fondamentale se siete voi l'unico leader e ci sono altre persone intorno a voi che non sanno che cosa fare a quel punto dovete diventare come dire il maestro di un'altra persona che voi scegliete faccio un esempio vedo il nome di sofia in chat quindi sofia tu che sei una persona comunque esile da quello che mi sembra non ci siamo mai incontrati ma dalle foto mi sembra che tu sia una ragazza abbastanza esile fare la le manovre di bls è molto stancante però nel caso tu ti trovassi in mezzo a una folla di persone che non sa che cosa fare con una persona in mezzo stesa che non respira e non dà segni di vita potresti essere un ottimo leader per prendere il più grosso che vedi nella folla e spiegargli cosa fare e fargli fare il massaggio cardiaco con il vigore necessario anche perché ti assicuro sarà stancante se cominci tu a farlo poi potrai spiegare un'altra persona magari più muscolosa più grossa più pesante e dopo vedremo perché è importante la il pesante che può darti il cambio quindi questa è un'altra questione fondamentale quindi vedo una persona a terra abbiamo detto che esatto nel frattempo chiami il 118 però il tipo grosso che tu hai istruito sta già facendo sta già agendo perché dicevamo che abbiamo questa finestra di 45 minuti che vi assicuro è veramente breve perché in una situazione di stress 4 minuti volano anzi in realtà è un po è un po' non simbolo perché ti sembra che il tempo non passi mai ogni minuto ti sembra che duri un'infinità però in realtà nel momento di panico è tutto molto rapido e quindi bisogna agire molto molto velocemente quindi dicevamo che abbiamo questa finestra di 45 minuti però se io adesso aprissi la porta vedessi la mia ragazza stesa per terra come faccio a sapere se è lì da più o meno di 5 minuti e quindi se devo agire o meno questa è una domanda che vi pongo vediamo se qualcuno risponde bene in chat e adesso vi rispondo la chat è morta molto bene quindi come faccio a sapere se una persona è lì da più di 5 minuti non lo posso sapere il segreto è agisco lo stesso cioè non c'è modo di scappare da questa cosa se anche la persona fosse lì da 20 minuti noi apriamo la porta vediamo che è lì per terra boom agiamo e iniziamo tutte le procedure come se fosse caduta davanti a noi quindi che cosa fare cosa fare altra questione importante è la primissima cosa che dovete fare è analizzare la situazione nel senso che è fondamentale che ci sia una sicurezza sia per il paziente sia per voi che lo state che lo dovete aiutare quindi se è una situazione pericolosa non ci si deve avvicinare è successo qualche anno fa che delle persone chiaramente tipo in India in quei posti lì delle persone che stavano lavando mi sembra delle cisterne contenenti del gas a quel punto una persona sviene dentro e gli altri operai vedono che quella persona è svenuta dentro cosa fanno? si precipitano dentro per andare a salvarlo il risultato è che non solo è morto lui ma sono morti anche gli altri operai perché appunto non hanno seguito questa semplice regola che prima di agire devo essere sicuro al 100% che la situazione sia sotto controllo e che non ci sia un effettivo pericolo che magari quella persona sia per terra solo perché ha avuto un malore questo è fondamentale per esempio se succede qualcosa che ne so in autostrada in un incidente stradale piuttosto che se c'è del fumo in casa poi questo magari lo vedremo in altre puntate prima cosa da fare è mettere in sicurezza sia prima se stessi anzi e poi il soggetto che dobbiamo soccorrere una volta che abbiamo deciso che la situazione è sicura o nel caso la situazione non fosse sicura porto il soggetto in una situazione sicura quindi sposto il soggetto lo alzo, lo trascino magari se siamo sulla carreggiata di una strada lo sposto su un marciapiede e anche qui possiamo avere un altro dubbio quindi come faccio a sapere se ha sbattuto la testa e quindi se devo muoverlo per esempio negli incidenti stradali sappiamo che le lesioni spinali sono abbastanza frequenti quindi in caso di un incidente stradale è bene non muovere assolutamente il soggetto a questo punto se noi non abbiamo la certezza di questo incidente quindi non solo ne l'abbiamo visto con i nostri occhi le tecniche di BLS hanno sempre la precedenza quindi se c'è un soggetto in mezzo alla strada che non abbiamo la certezza che per esempio sia caduto in moto allora va spostato e vanno attivate tutte le procedure del BLS quindi a quel punto situazione è sicura mi ci metto di fianco e verifico lo stato di coscienza quindi inizio a chiamare la persona cerco di capire se è cosciente se non è cosciente se risponde come risponde se già risponde è un buon segno quindi a quel punto posso chiamare il 112 farmi arrivare un'ambulanza e mantenere il soggetto in una situazione tranquilla finché non arriva nei soccorsi se invece non risponde a quel punto la prima cosa da fare è chiaramente chiamare il 112 ancora meglio se ci sono più persone quindi voi iniziate a fare un'altra procedura che adesso vi spiego e fate chiamare il 112 a un'altra persona dando delle informazioni precise e puntuali quindi chiamo e dice ho bisogno di innanzitutto inquadrare il soggetto quindi dire se è un adulto un bambino una donna un anziano lo stato di coscienza quindi risponde non risponde e e dare delle indicazioni stradali precise perché so che sembra una banalità però è fondamentale e nel caso se ci sono più di due persone mandare una persona a un'altra persona a prendere l'ambulanza se siamo in un posto abbastanza recondito quindi a quel punto spedisco una persona a chiamare il 112 io devo agire immediatamente quindi verificato che il soggetto non respira anzi che il soggetto non risponde devo andare a controllare se respira come facciamo a sapere se respira andiamo a posizionarci in ginocchio di fianco al soggetto e banalmente avviciniamo l'orecchio al suo naso a quel punto abbiamo due cose da tenere anzi tre cose da tenere sotto controllo primo come sempre il tempo abbiamo un tempo massimo di controllo della respirazione di dieci secondi quindi noi per dieci secondi che contiamo mentalmente ci avviciniamo con l'orecchio al naso del soggetto e innanzitutto sentiamo se c'è o meno un respiro e secondo con gli occhi guardiamo il petto del soggetto se vediamo che non c'è un sollevamento dato dalla respirazione allora a quel punto il soggetto non sta respirando e quindi a quel punto devo agire immediatamente come agisco primissima cosa da fare è sollevare la testa del soggetto che si trova per terra questo è fondamentale perché la respirazione bocca a bocca noi cosa facciamo banalmente andiamo a poggiare le nostre labbra sulle labbra del soggetto in casi diciamo limite diciamo qua c'è una sorta di rischio però questa è una roba che allungherebbe troppo la puntata però nel caso di rischio di malattie infettive ci sono delle tecniche poi per riuscire a stare come dire non a contatto con il soggetto però detto ciò dobbiamo andare ad eseguire la respirazione bocca a bocca che ormai conoscete tutti dato che siete dei tremendi appassionati di Baywatch immagino quindi tappo il naso e soffio nella bocca del soggetto il nostro respiro come vi ho detto in altre puntate è più che sufficiente per un'altra persona cioè l'ossigeno che noi esperiamo è vero che esperiamo un'aria arricchita di CO2 e carente di ossigeno ma l'ossigeno che esperiamo è più che sufficiente per mantenere in vita un'altra persona perché vi dico che è fondamentale alzare la testa perché per due motivi prima di tutto perché in una situazione in cui il soggetto non è cosciente avremo un rilassamento dei muscoli e la lingua è un muscolo anzi è formato da vari fasci muscolari intrecciati e quindi in una situazione del genere cosa succede che va a piegarsi verso indietro non si rivolta e quindi non va a soffocare il soggetto ma tenderà a ostruire il passaggio alle vie aeree secondo perché se noi andiamo ad eseguire un bocca a bocca in un soggetto che magari ha la testa anche un po' disposta così verso il basso andremo a soffiare aria nello stomaco perché le vie aeree saranno occluse e quindi noi dobbiamo far sì che invece l'aria vada nei polmoni come facciamo alziamo il mento alzando il mento permettiamo alle vie aeree di aprirsi e quindi la nostra respirazione sarà efficace poi due respirazioni quindi due soffi profondi che andiamo a espirare nella bocca a naso tappato ricordiamoci nel soggetto dopodiché cosa succede arrivo ebbe un secondo intanto leggo i miei appunti se avete qualcosa da scrivere scrivete pure fatemi sapere se c'è ancora qualcuno in live che la chat è morta poverina altra cosa che possiamo valutare nelle fasi iniziali è il battito quindi questo però se diciamo il paziente non respira già sappiamo che il battito sarà o assente o molto basso e soprattutto il battito non so se consigliarvi di farlo nel senso che per una persona istruita in questo campo è molto facile perfetto ragazzi grazie è molto facile rilevare il battito però per una persona che non è capace molto spesso ci impiega del tempo tempo che non avete quindi valutate la respirazione e nel caso iniziate il massaggio cardiaco adesso vi spiego come se siete in grado valutate anche il battito quindi il battito dove si sente al polso quindi con indice medio sul polso oppure all'altezza della giugolare molto facile oppure ancora più banale poggiate l'orecchio sul petto se sentite il cuore vuol dire che sta battendo se andate è importante ad ascoltare il battito alla giugolare piuttosto che al polso non bisogna schiacciare tanto perché l'obiettivo non è quello di chiudere un vaso se noi andiamo a schiacciare tanto andiamo a chiudere appunto i vasi quindi il sangue non passerà il battito non lo sentiremo dobbiamo appoggiare lievemente proprio sentire un leggerissimo un leggerissimo colpo Sofia avrei una domanda queste informazioni valgono sia per l'infarto che per lo strangolamento soffocamento intendi sì nel senso che come faccio a spiegarti per il soffocamento ci sono delle altre tecniche che vanno fatte prima però un soffocamento prolungato che non riusciamo a disostruire per esempio con la manovra di Heimlich il soggetto poi andrà in arresto respiratorio e respiratorio e quindi dovremmo iniziare tutta questa trafila quindi sì vale anche per quello e in realtà ci sono alcune differenze e poi ti dico alla fine anche una tecnica di disostruzione in un soggetto che è già per terra che noi non abbiamo visto soffocare però sì bisogna fare queste tecniche anche se un soggetto sta soffocando è quello che vi dicevo io della storia di mia madre cioè se mia madre si fosse soffocata e non fosse riuscito a ostruire le sue vie aeree poi avrei dovuto iniziare questa trafila e nel frattempo sarebbero arrivati i soccorsi si spera anche se devo fare un plauso al 112 calabrese che non solo non ci ha risposto ma non ci ha neanche richiamato quindi mia madre poteva essere morta lì da un anno e nessuno avrebbe saputo niente bene così grande la calabria è sempre il terzo mondo che ci piace comunque cosa vi stavo dicendo ah sì sentire il battito va bene il battito però non è fondamentale il massaggio cardiaco comunque non va a influire in modo negativo sul battito cardiaco quindi se il soggetto non respira boom cominciate subito poi massimo 10 secondi va bene ve l'ho detto fondamentale quindi valutare il respiro perché perché abbiamo detto che in quella situazione noi abbiamo verificato che il soggetto non risponde che non sta respirando e nel frattempo abbiamo possibilmente o siamo noi al telefono oppure abbiamo istruito qualcuno e gli abbiamo detto prendi il cazzo di telefono chiama il 112 fa arrivare l'ambulanza se il tizio è ancora al telefono è fondamentale dirti che il soggetto non respira questo perché in questo modo i soccorritori del 112 porteranno il defibrillatore e il pallone ambu che vabbè sarà un aggeggio che poi vi spiego comunque sono sempre presenti nell'ambulanza il defibrillatore no però e quindi è fondamentale che lo portino il defibrillatore Callen che suppongo sia fra questo punto forse dopo un anno e mezzo l'ho capito mi confermi che non bisogna usare il pollice sì non si usa il pollice perché sennò senti il tuo dibattito e quindi bisogna usare indice e medio i polpastrelli senza schiacciare troppo quindi il defibrillatore è fondamentale perché il defibrillatore vi risolve tante problematiche primo la stanchezza che come abbiamo detto sì lo sapevo che come abbiamo detto la stanchezza è qualcosa da non sottovalutare perché da lui le scosse e fa battere lui il cuore ma soprattutto perché è molto più efficace delle nostre mani e non si stanca e soprattutto vi dà delle istruzioni cioè i nuovi defibrillatori sono veramente a prova di idiota se penso che se lo dessi in mano a mio nipote di otto anni sarebbe in grado di utilizzarlo perché appena lo aprite inizia a parlare e vi spiega passo passo che cosa fare e quindi è fondamentale utilizzarlo se ne siete in possesso è chiaro che voi non andate in giro con il defibrillatore in mano sì adesso ti rispondo Sofia è chiaro che non lo dovete portare voi in giro nella borsetta ma forse non lo sapete o forse non ve ne siete mai accorti ma in tantissimi luoghi pubblici il defibrillatore è già presente per legge per esempio nei grandi supermercati sono pieni di defibrillatore nei parchi anche molto spesso c'è il defibrillatore per strada in alcuni punti di interesse comunque ci sono gli uffici pubblici anche mi sembra che sono obbligati ad avere un defibrillatore e quindi per esempio se siamo in un supermercato e vediamo una persona che cade per terra prima cosa è chiamare un tizio con la scritta del supermercato urlargli di andare a prendere il defibrillatore e perché può veramente fare la differenza oh esatto vedi Sofia il defibrillatore stanno in farmacia si lo possono usare tutti perché in una situazione emergenza chiaramente si in realtà penso che in farmacia o nei luoghi pubblici addirittura ci siano delle persone preposte a questo tipo di emergenza e quindi poi saranno loro a prendere in mano la situazione però mettiamo a caso che siamo per strada e di culo c'è in un parco un defibrillatore a quel punto si lo potete usare lo potete usare anche voi e è veramente molto facile perché vi spiega passo passo va bene quindi il defibrillatore fa tutto lui tranne la respirazione che dovrete fare voi come vi ho detto con il collo alzato e il naso tappato e dare due respirazioni ma anche quello vi viene diciamo guidato dal defibrillatore insieme inoltre al defibrillatore in molti casi potremmo anche trovare il pallone ambu il pallone ambu è quella specie di palloncino con la maschera non so se ce l'avete presente quello che si vede nei telefilm che si appoggia appunto alla bocca del soggetto e andando a schiacciare molto dolcemente perché altrimenti lo sfondate poverino il paziente il pallone ambu è molto 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 più efficiente di quanto faremmo noi con la respirazione e quindi andando a dare delle schiacciando dolcemente il pallone provocheremo quindi una respirazione efficace nel paziente quindi possiamo dire che tra defibrillatore e pallone ambu le possibilità che il soggetto si salvi sono nettamente superiori rispetto a quanto faremmo noi a mani nude e con la nostra con la nostra bocca quindi arriviamo alla manovra la manovra del massaggio cardiaco si fa in ginocchio di fianco al soggetto con le braccia tese quindi assolutamente non flesse e con il dorso di una mano dentro l'altra no dobbiamo spingere con la parte diciamo volare del palmo della mano che crea una sorta di stabilità con il nostro radio e non so è difficilissimo spiegarlo a voce è molto più facile da capire beh lo sapete dai come ci si mette per fare il massaggio cardiaco no braccia tese un palmo dentro l'altro è fondamentale andare a spingere al centro del petto al centro del petto anzi più precisamente al centro dello sterno più precisamente ancora all'altezza della linea capezzolare quindi esattamente al centro dello sterno perché il cuore si trova esattamente là sotto è fondamentale la rigidità cioè noi non dobbiamo spingere con i nostri muscoli il petto del soggetto dobbiamo creare una specie di piramide rigidissima tra le nostre spalle che saranno diciamo la base della piramide e la punta che saranno invece le nostre mani andremo a spingere sul petto utilizzando il nostro peso e quindi è per questo che vi dico che le persone molto esili faranno molta più fatica a fare un massaggio cardiaco rispetto per esempio a una persona molto corpulenta perché mettendoti di lato a un soggetto in ginocchio potrai spingere utilizzando proprio tutto il tuo peso tutto il tuo peso fino a un certo punto perché bisogna eseguire sostanzialmente un'escursione di circa 6 cm quindi non andiamo a se c'è un bambino per terra e il soccorritore pesa 180 kg lo spiaccichi il bambino quindi bisogna fare anche attenzione a dosare la forza però bisogna anche dire che appunto il massaggio cardiaco è un tipo di massaggio molto faticoso è molto in alcuni casi violento non so come non viene la parola adesso ci penso e ve lo dico quindi le mani spingono al centro dello sterno e si spinge quindi non sfruttando la nostra capacità muscolare non piegando assolutamente le braccia ma con il nostro peso quindi tutto il peso del nostro dorso molto spesso capita che le coste del soggetto si rompano specialmente nei soggetti anziani o anche nei bambini o si rompono o si dislocano rispetto allo sterno quindi potrebbe essere che sentiamo dei rumori tipo di ossa rotte che diciamo sono inconfondibili non ci dobbiamo fermare cioè questa è una cosa che avviene abbastanza frequentemente dobbiamo proseguire e magari valutare se stiamo mettendo troppa forza come dicevo nel caso di un bambino o di un anziano molto gracile non dobbiamo appunto devastarlo ma dobbiamo soltanto compiere una compressione efficace e quindi eseguire questa escursione di circa 5-6 cm comunque non è raro che si rompano le coste non fletto le braccia ve l'ho detto va bene fondamentale quindi vi dicevo prima spingere con la parte iniziale diciamo della mano tra il polso come se doveste fare una che ne so una flessione no non spingiamo sulle dita perché le dita si flettono spingiamo sul palmo della mano nella parte dura no e quindi utilizzare quella zona della mano quante compressioni dobbiamo fare allora qui ci sono diverse scuole di pensiero le ultime linee guida diciamo prima si usava la tecnica del contare 1001 1002 1003 1004 questo però dava una frequenza cardiaca troppo bassa ci si resi conto e quindi oggi invece si la frequenza di compressione da utilizzare è molto più alta bisogna dare all'incirca una frequenza di 100 colpi al minuto per darvi un'idea di quanti sono 100 colpi al minuto ci viene incontro una fantastica coincidenza ovvero la canzone staying alive dei Bee Gees che per la fortuna delle vostre orecchie non mi esibirò in questa nel nel cantare questa canzone ma andate ad ascoltarla e capirete quello là è più o meno un po' più lento in realtà quindi bisognerebbe andare un pochino più veloce di per riuscire ad eseguire una una frequenza corretta quindi mentre facciamo il massaggio cantate staying alive così salverete una vita e lo farete anche con stile perfetto 100 botte al minuto e quante volte un pochino l'ho fatto dai fra non esageriamo poi sennò già non mi segue nessuno cazzo questa puntata non so quanti sarete in quattro ad ascoltarla figurati se mi metto a cantare bisogna contare 30 colpi ok quindi frequenza di 100 al minuto per 30 volte quindi conto le 30 volte a mente o anche non a mente possiamo anche magari se siamo in due conviene anche contare ad alta voce sì e e quindi dopo le 30 dopo i 30 colpi andremo ad eseguire invece due insufflazioni d'aria due ispirazioni di invece tecnica respiratoria per la respirazione alto alzo la testa l'abbiamo già detto ah mi sono dimenticato una cosa fondamentale prima di eseguire la respirazione bocca a bocca è fondamentale controllare che le vie aeree non siano ostruite perché altrimenti potremmo in alcuni casi anche andare a come dire peggiorare l'ostruzione e oltretutto non sarà efficace la nostra respirazione bocca a bocca ce ne rendiamo conto innanzitutto perché prima dobbiamo guardare dentro la bocca che non sia ostruita da niente e quindi ce ne renderemo conto ma poi ce ne possiamo rendere conto anche se non l'abbiamo fatto prima andando a appunto espirare nel soggetto incontreremo una certa resistenza fin troppa e quindi ci renderemo conto che c'è un problema in quel caso ve lo dico da subito esiste una tecnica per disostruire le vie aeree anche in un soggetto che è per terra perché anzi abbiamo due tecniche o lo teriamo su quindi teriamo su il busto del soggetto e gli facciamo la manovra di Heimlich quindi poi magari nella prossima puntata vi spiego come altrimenti possiamo andare a posizionarci diciamo lungo le gambe del soggetto guardandolo in faccia posizionando le mani al di sotto del diaframma quindi qua sotto quando diciamo iniziano le coste e spingendo molto forte verso l'alto quindi verso i polmoni in questo modo creeremo una compressione data da rialzamento del del diaframma che in molti casi è sufficiente per provocare la disostruzione delle vie aeree quindi 30 colpi due respirazioni chiuso il naso chiudo il naso alzo la testa e gli faccio la respirazione bocca a bocca facciamo questo ciclo 32 finché non arrivano i soccorsi o finché non siamo totalmente esausti vi assicuro che se siete da soli ma anche se non siete da soli se non avete nessuno con cui darvi il cambio dopo tre giri sarete morti devastati stanchi sudati fradici quindi quindi è come vi dicevo la parte iniziale del istruire altre persone è importante appunto tanto quanto fare il massaggio cardiaco in modo efficace poi altre due cosine poi chiudiamo perché sono veramente stanco morto non è semplicissimo allora spiegato così a voce Sofia è difficile bisogna praticarlo quando sai cosa fare è molto facile nel senso che sai già cosa fare cioè nel senso non è che ci sia nulla di molto complesso detto così a voce chiaramente ti sembra difficile ti devi esercitare per questo vi suggerivo appunto di fare un corso che non vi costa niente o comunque guardatevelo un video su youtube per capire qual è la posizione da prendere cosa fare cosa non fare o comunque per il futuro diffondete questa puntata quindi mandatelo al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata perché quello che cade per terra come un salame potreste essere voi e se come dice sempre la mia ragazza se sta male lei io la salvo se sto male meglio io muoio giusto quindi condividete la puntata quindi la parte dell'ostruzione ve l'ho detta cosa fondamentale se il soggetto è che ne so al mare su un materassino in acqua o se il soggetto è un povero anziano che è stato male sul letto cosa devo fare devo fare una cosa molto importante fondamentale prima ancora di fare qualsiasi altra cosa anzi prima ancora di iniziare il massaggio cardiaco quindi dopo aver allertato i soccorsi e tutto quanto in che senso le scene da film dove il soccorritore salta in braccio al paziente mentre è spostata una parella è reale sono cagate i Grey's Anatomy no no è reale è reale cioè è reale è reale forse come dicevamo prima in Calabria dove non hanno e mi dispiace per tutti i calabresi che ci stanno ascoltando ma io purtroppo ho avuto questa disavventura e non posso non esprimere il mio disappointment dove non hanno i i defibrillatori in teoria su un'ambulanza se ho chiamato un'ambulanza e dico che ho bisogno di un defibrillatore arrivano col defibrillatore quindi no non c'è nessun soccorritore sulla barella che spinge come un pazzo tutto sudato c'è il defibrillatore che fa il lavoro per lui e lo fa meglio quindi grande Calabresi io vi voglio bene sappiate che però spero di non stare male nella vostra ragione vi stavo dicendo che bisogna spostare il soggetto perché se è sul letto il nostro massaggio cardiaco non avrà nessun effetto perché il senso del massaggio cardiaco è comprimere il cuore tra lo sterno cioè tra due superfici dure quindi lo sterno e dietro la colonna vertebrale quindi se è su una superficie dura se è sul pavimento io comprimendo lo sterno andrò a eseguire una compressione del cuore se invece il soggetto è sul letto non faccio una mazza quindi vanifico tutta la spinta che sto dando e quindi è fondamentale appunto metterlo per terra prima di iniziare esatto deve stare sul duro quindi sul pavimento piuttosto che se siamo in spiaggia sulla spiaggia poi in realtà in spiaggia bisogna anche aver cura di asciugare bene il soggetto perché appunto nel caso poi arrivi qualcuno con un difibrillatore in mano se magari non siete in una spiaggia calabrese poi bisogna asciugarlo perché sennò prende la scossa va bene quindi io questa sera sono molto soddisfatto non solo perché ho forse più di due ascoltatori no non è vero c'è solo Sofia e Fra ma va benissimo così però sono molto soddisfatto di questa puntata perché da oggi voi saprete che cosa fare nel caso di un ritrovamento di un soggetto a terra ultima cosa che vi voglio dire nel ricondito caso in cui il soggetto si riprenda oh c'è anche Edward bravissimo nel ricondito caso in cui il soggetto si riprenda lo mettiamo non lo facciamo alzare non lo facciamo andare in giro lo facciamo stendere in una posizione che si chiama posizione di sicurezza ora le mie facoltà mentali non sono proprio al 100% sono un po' stanco però cerco di spiegarvi come si mette dovete stenderlo sul lato possibilmente il lato sinistro con la gamba destra alzata a 90 gradi sull'altra forse è meglio se vi mando poi un'immagine su telegram perché niente quindi deve rimanere su un lato con la testa possibilmente un po' bassa così nel caso vomitasse cosa che è abbastanza frequente per esempio nei soggetti che subiscono un infarto poi magari vi spiegherò perché in un'altra chicca di penscienza non si deve soffocare quindi deve stare sul lato e per non farlo rigirare si mette una gamba diciamo a cavalcioni dell'altra e quindi in quel caso siamo ancora più certi di dargli una chance quindi bravissimi ragazzi che siete arrivati fino alla fine di questa puntata avete salvato una vita o la salverete e soprattutto venite ad ascoltare la prossima puntata a proposito del soffocamento sì esatto posizione similfetale con una gamba tesa la gamba tesa è quella sul lato su cui l'abbiamo chinato mentre la gamba flessa è l'altra che lo tiene un po' a triangolo diciamo a tre piedi venite ad ascoltare anche la prossima puntata condividete come i maiali vi ricordo che chi condividerà questa puntata riceverà un fantastico buono sconto per il nostro store quindi è anche una grande occasione per fare magari un regalo io vi saluto perché non ho più voce non ho più saliva non ho più cervello vi ricordo che questa serie andrà avanti solo se ci sarà una risposta da parte vostra e degli ascoltatori in generale quindi mi raccomando dateci dentro con le condivisioni e noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Deep in Scienza ciao 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 Grazie.